La mafia tiene ancora ben salde le mani sulla città di Palermo, anzi sullo Zen, zona espansione nord, quartiere di periferia dove regna il clan di Tommaso Natale. Stamani all'alba i carabinieri hanno arrestato 16 persone, tra cui il boss Giuseppe Cusimano, accusate di associazione mafiosa, tentato omicidio, estorsioni, danneggiamenti, minacce aggravate e detenzione abusiva di armi da fuoco. Il classico rosario di reati per gli adepti di Cosa Nostra, che qui, tra le persone più povere del capoluogo siciliano, rese ancora più povere dai contraccolpi del virus, si presentavano le famiglie con i pacchi di aiuti, mentre come al solito chiedevano il pizzo e minacciavano gli imprenditori. Ma cinque di questi hanno avuto il fegato di rivolgersi ai carabinieri, che, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, hanno dato il via all'operazione Bivio. Il nome dice la svolta in atto. Nuovi soggetti mafiosi che riempiono il vuoto creato dagli ultimi arresti e superano la spartizione del territorio decisa dai clan nel 2018. Le intercettazioni, anche su gommoni su cui pensavano di essere al sicuro, raccontano di uomini tanto violenti quanto ambiziosi, pronti a sfidarsi a duello, come allo zen nel settembre scorso, e a progettare rapine con armi da guerra. Uomini per i quali il virus, ha detto la ministra dell'interno Lamorgese, è un'altra grande occasione per imporre il loro welfare di prossimità e rafforzare così il consenso sociale.